Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, figlia di un rappresentante di medicinali, Giovanni De Filippi, e di una professoressa di lettere, Giuseppina Bottoni, 1927-2015, nasce a Milano, ma all'età di 10 anni si trasferisce a Mornico-Losana, nell'oltrepo, Pavese, dove i genitori possedevano un vigneto. Dopo il diploma liceale, ottenuto presso il liceo classico statale Ugo Foscolo di Pavia, si laurea con lode in giurisprudenza all'Università degli Studi di Pavia, specializzandosi in scienza delle finanze e tentando la carriera in magistratura, dopo aver lavorato come redattrice di tesi, collabora per due anni con l'Istituto per la Ricerca Sociale, ILS, e in seguito si è occupata dell'ufficio legale di una società produttrice di videocassette. Nel settembre 1989, durante un convegno contro la pirateria musicale organizzato a Venezia dalla società per cui lavora, conosce Maurizio Costanzo, poi parla anche di uno dei programmi più seguiti, Uomini e Donne. È un po' una fotografia di cosa succedeva una volta nelle piazze. Di persone che si incontravano e magari si innamoravano. Oggi questa piazza siamo noi. E a casa si immedesimano nelle storie che mandiamo in onda. È tutto vero. Per noi è fondamentale la verità del programma. Cerchiamo di evitare che chi viene da noi voglia fregarci. Però è chiaro che c'è un margine di errore. Non possiamo garantire al 100% che tutti vengano per cercare l'amore piuttosto che la notorietà. Infine sulle critiche che arrivano su alcuni programmi definiti, trash. La mennoia risponde così, Non penso che facciamo trash e comunque non penso che trash sia una parola negativa. Penso che il trash sia negli occhi di chi guarda. Di chi si approccia con la puzza sotto il naso. Grazie a tutti.